Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Rod e oggi vedremo una nuova guida ai brand, al brand Torg. Detto ciò vediamo subito qual è la particolarità delle armi Torg e cosa produce. Produrrà lancio razzi, shotgun, pistole e fucile d'assalto, anche delle granate. La particolarità per quanto riguarda le armi è che tutte le armi o quasi avranno la possibilità di scegliere tra un'esplosione all'impatto e una mina che esploderà dopo un po' di tempo oppure alla ricarica. Inoltre la maggior parte delle armi Torg, ancora una volta, a salvorare esclusioni saranno sempre esplosive e raramente elementali. Nello specifico vediamo quindi cosa cambia tra ogni tipo di arma. Partiamo dai lanci razzi che hanno sempre pochissimi colpi, danni non molto consigliati a meno che non stiamo parlando di uniche leggendarie e come le armi normali avrà sempre impatto e appiccica. Quindi un colpo normale andrà avanti e andrà ad esplodere, un colpo appiccica arriverà in fondo e esploderà soltanto alla ricarica. Per quanto riguarda gli shotgun invece possiamo avere alcune cose un pochino più particolari. Ad esempio possiamo averli con una sorta di lancia granate oppure che sparano un tot di proiettili. Nel caso sparino più di un proiettile è sempre consigliato fare appiccica in modo da riempire il nemico di mine e poi farle esplodere tutte alla ricarica. In questo modo farete molto più danno che sparare e sfruttare l'esplosione degli impatti direttamente. Per quanto riguarda gli assa, le pistole invece, le pistole saranno simili ma raramente spareranno più di due o tre proiettili contemporaneamente. Come prima avranno sempre la possibilità di appiccicarsi oppure di esplodere direttamente all'impatto. Però sono tra le armi che sparano più velocemente tra tutte quelle Torg. Infine abbiamo i fucili d'assalto che come tutte le altre armi non saranno mai automatici se non rari eccezioni. Ancora una volta può avere sia l'impatto che la mina appiccicosa e nel mio caso ho una variante che spara questi razzi che vanno in linea retta. Ma è possibile trovare anche la sorte di lancio granate come per gli shotgun. Però quest'arma può sparare veramente molto veloce un po' come una Jacobs. È abbastanza rara trovarne una così ma è possibile. Come al solito è molto più veloce sparare le mine e poi farle esplodere. Il danno sarà praticamente doppio. Infine vediamo le granate. La particolarità delle granate è che le granate Torg andranno sempre ad esplodere l'impatto con il nemico. Purtroppo il cantonato di Jack non conta come nemico quindi se ci lancia una granata colto rimbalzerà e si comporterà come una granata normale. Ma nel caso di un nemico di carne come vedremo a breve le granate Torg esploderanno appena lo toccheranno. Quindi è un ottimo modo di lanciare magari una granata vicino a un nemico e poi ci pensarà la granata a fare quello che deve fare. Quindi direi di andare su Atenas per vedere come sfruttare al meglio questo tipo di armi. Eccoci quindi arrivati da Atenas. Come al solito non ho nessuna build non ho altri oggetti non ho abilità non ho niente a parte i grandi guardiano e le armi Torg. Quindi direi di partire subito dalle granate. Andiamo a lanciarla contro questo nemico e vedete che è esplosa all'impatto. Il resto dei modificatori, merve eccetera sono casuali. Come al solito se andremo a morire non importerà perché lo scopo è mostrare come sfruttare le armi. Quindi per quanto riguarda le granate l'importante è tirarle vicino al nemico poi se l'avrete colpito ci penseranno loro ad esplodere direttamente. Andiamo quindi a suicidarci per respawnare il più velocemente possibile. Vediamo i lanciarazzi. I lanciarazzi hanno sempre un colpo in linea retta con un inbox abbastanza grande. Per colpire i nemici sarà sempre conveniente sparare da dietro un riparo e stra attenti a dove si spara. Andiamo quindi a ricaricare e vedete che hanno fatto la loro esplosione purtroppo senza grandi risultati. Mettiamo la modalità impatto che è quella che dà un pochino più di soddisfazione ma è anche molto lento sparare tra un colpo e l'altro. Passiamo quindi agli shotgun. Come prima proviamo l'impatto. Vedete che è abbastanza lento e non fa quel granché. Se invece passiamo alla modalità appiccica possiamo appiccicare tutti i proiettili e farli esplodere nel mentre. Questo ci permetterà di avere anche una sorta di danno nel tempo e permetterà ad alcune build come quella di flak basata sui colpi critici di staccare altri oggetti come ad esempio lo stackbot o la perla. Vediamo quindi le pistole. Pistole possiamo andare più vicini di prima e possiamo mirare con una relativa tranquillità perché sono abbastanza precise. Come al solito appiccica è molto meglio perché vi permette di sparare colpi più in fretta e andrà a fare più danno. Il mirino non usatelo. Non usatelo perché le pistole TORG per la maggior parte sono molte grosse come tipo di arma e mirini spesso sono piccoli o iron sight e non ci sono letteralmente guadagni nell'utilizzarle. Infine vediamo i fucili d'assalto. Come al solito impatto è abbastanza noioso diciamo nulla di particolare. Se invece parliamo di appiccica possiamo letteralmente sparare molto molto veloce. L'importante è cliccare veloci. In questo caso vi consiglio di non mirare assolutamente nel caso i nemici siano vicini perché la precisione sarà molto alta con la appiccica. Se i nemici sono lontani non usate un'arma TORG perché salvo state usando un lanciarazzi non ha molto senso andarne ad utilizzare una. Quindi per questo video è tutto. Se avete qualche domanda sul brand TORG fatemelo qua sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto vi chiedo di lasciare un like ed iscrivervi nel caso non lo siete ancora per supportare questo canale e aiutarmi a fare tanti nuovi video. Detto ciò da Oroide è tutto. Ciao a tutti.